HDR10 o Dolby Vision? Quali sono le differenze? Cosa cambia tra l'una e l'altra tecnologia? Quale televisore è meglio comprare? Cosa avverrà nel prossimo futuro? Cosa significano le sigle HDR10 Plus e Dolby Vision IQ? Cosa sono i metadati dinamici? So che tutte queste domande vi stanno frullando nella testa e in questo video ho deciso un attimo di fare una spiegazione completa nella maniera più semplice possibile per farvi capire quali sono le differenze tra le due tecnologie e come funzionano sui televisori che andiamo a comprare quali sono le tendenze, verso cosa vanno i diversi produttori e a cosa fare attenzione prima di continuare però un piccolo spazio allo sponsor di questo video lo sponsor di questo video è SCD Keys dove potete trovare tante chiavi di tanti software diversi tra cui anche la versione di Windows 10 Pro OM che può essere facilmente aggiornata a Windows 11 cliccando sul pulsante acquista ora verrete reindirizzati sulla pagina di acquisto dove possiamo inserire il codice RS25 che ci dà diritto al 25% di sconto completiamo l'acquisto per soli 14,08 euro e dopodiché riceviamo il codice che possiamo inserire attraverso le impostazioni di Windows nella pagina di attivazione aspettare qualche secondo in modo da attivare la nostra licenza di Windows gratuita per sempre e come detto aggiornabile a Windows 11 su SCD Keys trovate inoltre tante altre chiavi di tanti altri prodotti alcuni link ve li ho lasciati qui sotto in descrizione ma adesso continuiamo con il video se non l'aveste ancora fatto inoltre vi ricordo di iscrivervi al canale in modo da supportare il mio lavoro in modo che io possa portarvi contenuti sempre di maggiore qualità e più approfonditi oltre a seguirmi anche sul mio canale Telegram dedicato alle offerte il cui link lo trovate qui sotto nella descrizione ci sono tantissime sigle che definiscono l'HDR ma partiamo dalle basi cosa significa HDR? è semplicemente un acronimo che indica l'High Dynamic Range ovvero l'Elevata Gamma Dinamica questo cosa significa? proprio nella maniera più semplice possibile la capacità che ha un determinato pannello un determinato dispositivo di visualizzare più colori e quindi migliori sfumature quando ci sono diverse gradazioni dei colori cosa significa detto in parole povere? che se voi guardate il video di un tramonto di un'alba su un televisore senza HDR o banalmente anche una partita di calcio vedrete delle grandi bande che hanno ognuna delle gradazioni diverse con una televisione dotata di HDR non vedete delle bande da singolo colore ma vedete una sfumatura molto più graduale che ovviamente è più piacevole e restituisce una qualità migliore ai nostri occhi questo perché? perché l'HDR rispetto all'SDR che è la tecnologia utilizzata per i contenuti più basici ha 10 bit e la possibilità di visualizzare fino a un miliardo di colori mentre l'SDR si ferma a 8 bit e ha soli 16,7 milioni di colori quindi capite che c'è un bel salto in avanti a livello qualitativo semplicemente scegliendo un pannello dotato di HDR cos'è l'HDR 10? è semplicemente la base di partenza dell'HDR l'HDR 10 può essere utilizzato in pannelli a 10 bit quindi che riescono a sfruttare davvero tutta la potenza e le migliorie di questa tecnologia ma anche in alcuni casi di televisori un po' più economici in pannelli a 8 bit con qualche trick che non stiamo qui a spiegare in questo video il più grande vantaggio dell'HDR 10 è quello di non avere assolutamente alcun costo di licenza quindi qualsiasi produttore può decidere di implementarlo sul proprio televisore senza pagare niente a nessuno e questo se ci pensate è un grosso vantaggio perché significa avere un maggior guadagno dalla vendita del prodotto finale inoltre l'HDR 10 permette di sfruttare fino a 4000 nits di luminosità massima è un valore elevatissimo e abbiamo visto quest'anno che già i televisori di fascia più alta come per esempio il Samsung QN95A che sfrutta la tecnologia mini led si ferma a poco più di 1500 nits un'altra caratteristica dell'HDR 10 è che la sua implementazione dall'inizio alla fine del video è sempre la stessa e questo può essere sia un vantaggio perché richiede meno elaborazione da parte del processore ma anche uno svantaggio perché magari lo stesso settaggio che utilizziamo per vedere un'alba nel migliore dei modi non si addice poi ad una scena più scura e questa è una cosa importante per cui sono poi arrivate altre tecnologie a sopperire a questa mancanza passiamo adesso al Dolby Vision una tecnologia che già dei numeri sembrerebbe superiore infatti il Dolby Vision permette di sfruttare pannelli fino a 12 bit e soprattutto arriva ad una profondità di colore di 6,8 miliardi di colori visualizzati non solo può arrivare a elaborare una luminosità di ben 10.000 nits dai numeri sembrerebbe la tecnologia su cui puntare c'è solo un problema non esiste al momento nessun pannello in grado di sfruttare tutti questi numeri le cose appunto anche in questo caso potrebbero cambiare con l'arrivo di nuove tecnologie è proprio per questo che in ambito televisori Samsung ma anche altri produttori stanno puntando tantissimo al micro led perché sembrerebbe la tecnologia ideale per poter poi arrivare a sfruttare appieno tutte queste capacità il Dolby Vision inoltre rispetto all'HDR10 ha un grosso vantaggio ovvero adatta all'elaborazione del video scena per scena questo significa che non avremo nessuna mancanza sia quando visualizzeremo il video di un'alba sia quando visualizzeremo una scena scura sia quando visualizzeremo un'immagine molto molto contrastata il Dolby Vision dove lo troviamo? beh praticamente ovunque l'unica piattaforma ad aver mostrato un po' di attenzione prima di integrare ora pieno è senza ombra di dubbio Amazon Prime Video nella quale i primi contenuti erano davvero pochissimi troviamo giusto Spider-Man 2 e pochi altri c'è da dire però che nel corso degli anni l'implementazione si è evoluta ormai tutte le nuove serie esclusive Amazon Prime Video includono la compatibilità con il Dolby Vision anche Netflix ha tantissimi contenuti in Dolby Vision una delle serie più famose compatibili con il Dolby Vision è senza ombra di dubbio Stranger Things c'è però da fare una piccola differenza rispetto all'HDR10 ovvero il Dolby Vision richiede il pagamento di una licenza a Dolby che se vi ricordate è la stessa azienda che poi produce anche il Dolby Atmos che è una tecnologia relativa all'audio se volete approfondire ho già fatto un video che spiega le differenze tra Dolby Digital e DTS Audio tra i grandi produttori sicuramente quella che fa più discutere per la non adozione delle Dolby Vision è Samsung che per adesso implementa sui suoi televisori sia di fascia media sia di fascia altissima solamente l'HDR10 e l'HDR10 Plus passiamo però alle più recenti implementazioni di queste tecnologie la prima è il Dolby Vision IQ o IQ se lo volete dire in inglese cosa cambia rispetto al Dolby Vision Standard? molto poco per la verità l'unica grossa differenza è che il Dolby Vision IQ è in grado di sfruttare i metadati dinamici ma soprattutto il sensore di luminosità questo permette un'elaborazione ancora migliore dell'immagine perché va ad adattare quanto visualizzato nella scena in base alla luminosità reale che troviamo in una determinata stanza la cosa bella del Dolby Vision IQ è che in linea teorica non richiede nuove tecnologie o nuove implementazioni è sufficiente che sul televisore sia presente il sensore di luminosità per implementarlo al 100% già alla base questa è una tecnologia molto solida tant'è che viene adottata da tantissime aziende possiamo pensare ad LG che la integra sui suoi televisori LG C1, LG B1 e anche sulle serie più basse e anche sulla serie Nanocell possiamo pensare a Philips, anche TCL adotte Dolby Vision ma anche Apple TV e addirittura Oppo l'azienda che produce non solo cellulari ma che è sempre stata famosa in ambito intrattenimento per la produzione di materiale apposito sia lato audio sia lato video per quanto riguarda l'HDR 10 Plus diciamo che va a colmare la più grossa mancanza dell'HDR 10 se vi ricordate qualche minuto fa ho detto che l'HDR 10 elabora l'immagine allo stesso modo dall'inizio alla fine l'HDR 10 Plus sfrutta invece i metadati dinamici che vengono contenuti e che vengono integrati all'interno delle scene quindi è in grado di capire che tipo di scena viene visualizzata e in questo modo tarare i parametri in modo da adattarsi al meglio sia appunto nella visualizzazione di scene molto contrastate sia nella visualizzazione di scene molto luminose e questo è sicuramente un grosso vantaggio l'HDR 10 Plus come l'HDR 10 inoltre non richiede il pagamento di alcuna licenza e ovviamente uno dei maggiori supporter dell'HDR 10 e dell'HDR 10 Plus è sempre Samsung che nella sua gamma TV non integra il Dolby Vision ma cos'è meglio in fin dei conti l'HDR 10 o il Dolby Vision e le loro varianti HDR 10 Plus e Dolby Vision IQ l'HDR 10 si ferma a 10 bit e a 1024 sfumature di luce che se ci pensate comunque sono già tantissime sono pochissimi i televisori in grado di sfruttarle a pieno tra cui il Samsung QN95A il mini led che abbiamo recensito a fine 2021 mentre il Dolby Vision raggiunge i 12 bit e 4096 sfumature di luce questo significa che la luminosità del pannello può essere regolata su 1024 livelli per quanto riguarda l'HDR 10 e su 4096 livelli per quanto riguarda il Dolby Vision questo è senza ombra di dubbio un punto a favore per quanto riguarda il Dolby Vision questo perché? perché l'occhio umano è in grado di percepire tantissime sfumature di luce quindi più un televisore e un pannello è in grado di visualizzare queste sfumature di luce più l'immagine sarà appagante e naturale per il nostro occhio pensiamoci siamo in grado di vedere quasi al buio con pochissima luce ma siamo anche in grado anche se per pochi secondi di vedere la luce diretta del sole e il sole quasi senza alcuna protezione per cui appunto l'occhio umano è in grado di cogliere tutte queste sfumature ed è bene che tutte le varie aziende si concentrino a sviluppare tecnologie sempre più capaci di visualizzarle e soprattutto rappresentarle in un video detto questo su cosa è meglio puntare? su televisori che hanno entrambe le tecnologie? è bene puntare su televisori che non hanno il supporto a Dolby Vision? è bene puntare a televisori che hanno soltanto il supporto a Dolby Vision? beh è una risposta molto difficile da dare c'è da dire però che alcune produzioni come 20th Century Fox e alcuni ultimi prodotti alcuni ultimi film sono stati realizzati pensando solamente allo standard Dolby Vision tra questi possiamo citare per esempio Le Mans 66 un film di grande successo che però appunto non supporta e ha abbandonato assolutamente lo standard HDR 10 Plus supportando solamente il Dolby Vision IQ sembra quasi che tra le grosse aziende la direzione sia stata presa tuttavia dietro ci sono accordi economici che non siamo in grado di valutare sicuramente tenuti molto segreti per cui la scelta è sempre alla fine soggettiva l'unica variabile a cui secondo me bisogna fare attenzione che tipo di contenuto andiamo a visualizzare quale tecnologia quel contenuto supporta è ovvio che se andiamo ad utilizzare esempio estremo una piattaforma che supporta solamente la tecnologia Dolby Vision andare ad acquistare un televisore che invece non la supporta va a collidere con la nostra scelta magari portando anche ad una visualizzazione che non è attimale bisogna però specificare che le due tecnologie nascono bene o male per fare la stessa cosa ovvero per permettere all'utente di visualizzare una più ampia sfumatura di colori e una più ampia gradazione di luce in modo da rendere al meglio determinate scene che fino a qualche anno fa erano molto difficili da rappresentare e visualizzare su un pannello domestico quindi la scelta possiamo dire che è assolutamente soggettiva guardate semplicemente che tipo di tecnologie supportano i contenuti che guardate di più e a quel punto scegliete di conseguenza il mio consiglio è quello comunque di affidarsi almeno per il momento a produttori che supportano sia il Dolby Vision sia l'HLG e ce ne sono tantissimi tra questi appunto LG ma anche Philips l'8556 supporta sia HDR10 sia Dolby Vision queste differenze vi dovrebbero far capire anche perché a parità di specifiche alcuni televisori possono costare di più o di meno per esempio i QLED non supportano Dolby Vision questo cosa significa? che Samsung non deve pagare nessuna specifica Dolby Vision per cui a parità di specifiche per esempio con un TV di Philips che invece paga Dolby per avere la compatibilità con i Dolby Vision può permettersi di abbassare il prezzo mentre Philips magari deve tenere per forza un prezzo più alto per avere la stessa marginalità questa è una discriminante molto importante per noi consumatori che però dobbiamo appunto stare attenti e non farci indirizzare solamente dal prezzo finale ma da quello che realmente necessitiamo infine parliamo di HLG ovvero Hybrid Log Gamma diciamo che è un HDR pensato per i canali satellitari per esempio tra le grandi piattaforme che supportano l'HLG ci sono la BBC e l'NHK che è un emittente giapponese ma anche Sky supporta l'HLG per esempio tutte le gare di Formula 1 vengono trasmesse sfruttando questo standard come detto il funzionamento di base è praticamente sempre lo stesso ovvero quello di aumentare la capacità di riproduzione e la profondità dei colori per migliorare la visione finale tuttavia appunto come avete visto nel video le implementazioni possono essere molto diverse anche se poi il fine ultimo è lo stesso tutto verrà deciso sia da noi consumatori sia dalle direzioni che verranno prese dalle varie aziende non solo per quanto riguarda i produttori di televisori e monitor ma soprattutto anche dalle grandi produzioni cinematografiche detto questo un'ultima parentesi per concludere tutti i monitor che indicano HDR sono HDR come avete visto il focus per l'HDR è la luminosità massima per cui se prendete un televisore o un monitor che ha 300 400 inizi di luminosità massima l'HDR è solo simulato viene aggiunto perché sì potenzialmente in alcune scene la luminosità di picco può raggiungere il valore desiderato e allora mettiamo l'HDR così facciamo marketing ma di fatto per prendere un televisore o un monitor HDR bisogna spendere i soldi perché l'HDR come avete visto può essere implementato senza alcun costo di licenza e questo avvantaggia molti produttori a dire mettiamo l'HDR nel nostro modello in modo da attirare più consumatori la verità è che poi quel televisore o monitor non sono in grado davvero di visualizzare l'HDR proprio perché non soddisfano i requisiti per quanto riguarda la luminosità massima reale costante su tutto il pannello come viene fatto questo escamotaggio beh semplicemente sfruttando la luminosità di picco la luminosità di picco non viene misurata sull'intero schermo ma solamente su una piccola sezione ed è ovvio che più è piccola la sezione più luminosità si può concentrare all'interno della stessa ma solamente per pochi secondi nella recensione del QN95A abbiamo visto per esempio come la luminosità di picco venga tenuto per appena 30 secondi quindi state molto attenti a leggere e interpretare le etichette dei vari produttori perché questa è una cosa su cui fare parecchia attenzione spero con questo video di avervi un po' chiarito la scena generale tra HDR Dolby Vision e tutte le sigle che vengono integrate all'interno delle etichette dei televisori iscrivetevi al canale se questo video vi è piaciuto e noi come al solito ci vediamo al prossimo video ciao ciao grazie a tutti grazie a tutti